Musica Stai attento a quello che fai stamattina. Sarebbe più o meno questo il contenuto della minaccia telefonica arrivata al comandante e la polizia municipale di Avellino, Michele Arvogno, sul cellulare prima dell'incontro per l'apertura delle buste per il bando parcheggi. L'iter verso la definizione della cooperativa vincitrice dopo lo stop del 20 aprile per l'assenza di uno dei tre membri della commissione ripreso la scorsa settimana con l'individuazione del terzo profilo, il dottor Porfidio Munda, dirigente al comune di Sarno e che affianca il segretario generale Feula, il comandante Arvogno, subisce un'ulteriore brusca frenata. L'apertura delle buste è stata rinviata a causa delle minacce fatte per venire al comandante della polizia municipale. Il comandante dei vigili. Che tipo di minaccia? Non lo so, non lo so. Ci hanno detto questo. Ma durante? Una telefonata, una telefonata. Durante l'incontro? No, prima. Subito dopo arriva il secondo colpo di scena con il responsabile della ditta Atena che annuncia il ritiro dell'azienda dalla gara. Vi leggo la comunicazione di sospensione di seduta. Alle ore 11.08, a seguito di dichiarazioni di uno dei membri della commissione di card, dottor Michele Arvogno, di aver ricevuto minacce telefoniche, in corso di verifiche da parte dell'autorità comandante, essendo venuta meno la serenità per le operazioni da espletare, la commissione decide la sospensione della seduta, riviando a data destinarsi che sarà comunicata alle concorrenti. Noi siamo basiti da questa cosa, quindi non so. Mi ha riferito i contenuti della telefonata, delle minacce? Nel modo più assoluto. Noi come imprenditori siamo anche, nella prima volta che ci capita una cosa del genere, quindi può darsi pure che rinunciamo all'appalto, perché questo clima, non abbiamo mai trovato un clima del coso. Si tratta di una gara di 170.000 aereo che al massimo puoi sistemare 10 persone per fare la pulizia delle aree. Quindi io non ero a conoscenza di tutta questa cosa, a me non mi è mai capitato, io mi sto a casa mia, perché è impossibile con questo clima. E noi ci ritiriamo perché per questo clima... Sì, noi ci ritiriamo dalla... No, non abbiamo proprio paura, perché non abbiamo tempo da perdere con questo clima che si sospende per una minaccia a un comandante dei vigili. Si figura io che faccio l'imprenditore, non ho la scorta, non faccio il ministro della pubblica istituzione o della giustizia. Quindi mi sto a casa mia tranquillamente e tutto continua con me, viva l'Italia. È stato inutile tentare di far parlare il comandante dei vigili, che in tutta fretta ha lasciato Palazzo di Città senza dire una sola parola, ma scuro e involto. Arbonio ha presentato denuncia contro i gnoti, anche se, secondo indiscrezioni, il numero della persona che ha telefonato al comandante sarebbe apparso sul display del cellulare. Alle 10 al primo piano del comune di Avellino c'è Folla. Ci sono i parcheggiatori che da sette mesi aspettano di conoscere quale sarà il loro futuro. La commissione per l'apertura delle buste e per l'assegnazione delle aree di sosta si riunisce, ma nonostante si tratta di un incontro pubblico, restiamo tutti fuori. Accesso vietato. Per rafforzare il messaggio vengono fatti sistemare due vigili urbani davanti alla porta. Arrivano anche due agenti della DIGOS e altre tanti della squadra mobile. A questo punto si intuisce che qualcosa non va. Dopo circa un'ora si apprende che tutto è stato sospeso per le minacce arrivate al comandante Arbonio. Il comandante dei vigili urbani ha presentato denuncia, mentre Antonio Nunziata, rappresentante del consorzio Atena, si sarebbe rivolto alla procura della Repubblica. Tutto rinviato e non è la prima volta per il bando parcheggi, bisognerà attendere, ma per volontà anche del sindaco, non per molti giorni. Il fatto in sé è di una gravità senza precedenti, un fatto molto 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 grave. Ritengo che il segretario abbia assunto una decisione opportuna di congelare l'apertura delle buste, anche per mandare una risposta a questi interlocutori anonimi, che è di grande determinazione di fare muro rispetto a qualsiasi tipo di pressione. Il segretario mi ha detto poco fa che comunque adesso avrebbe aggiornato l'apertura delle buste entro fine settimana o al più tardi lunedì. La salute di mio figlio prima di tutto. Alessio ha 13 anni e non può marcire né degrado. È questo disperato appello di Antonio Cucciniello, operatore ecologico impegnato a Tufino, che interviene dopo il primo servizio realizzato da Telenostra nella loggio Tugurio, Rione Avesa. I polmoni di Alessio sono stati divorati dalla muffa e il suo respiro, dice, diventa sempre più corto ogni settimana. Sono costretto a correre con urgenza in ospedale. L'SS di Antonio è sostenuto con forza dalla sorella Lucia, che anche stamani ci ha indicato la camera da letto in base da muffa e infiltrazioni di acqua. Mio fratello lo porta ogni settimana all'ospedale perché non sta bene e c'ha l'asma. Questo è un ambiente che non si può vivere. Purtroppo è antigienico se loro provvedono. Qua in questa casa non si può stare. Mio fratello non sta bene di salute, mamma non sta bene di salute. E il bambino di 14 anni adesso ogni settimana va all'ospedale. Se loro provvederanno, provvedono, io non lo so. Tra l'altro queste condizioni di salute così precarie da parte del bambino rendono difficile anche il suo percorso scolastico, no? Sì. Perché comunque deve recarsi spesso all'ospedale. All'ospedale ogni settimana mio fratello lo porta perché non sta bene con l'asma. Ogni settimana lo porta. Vediamo anche stamattina la situazione è imbivibile, in particolare in questa stanza. Purtroppo devono provvedere. Giustamente mio fratello ha un bambino che non sta bene con l'asma. Ogni settimana lo porta all'ospedale. Se provvedono di dare qualcosa perché è antigienico, è pieno di muffa. Abbiamo fatto una domanda. Tant'anni nessuno ci ha pensato. Nessuno ci ha pensato. Anche il centro storico è invasso dei topi. Ratti dalle dimensioni gigantesche, segnalano gli abitanti e i commercianti di Via Nappi, che fuoriescono dalle fogne, da alcuni stabili fatiscenti e persino dalla Dogana, il cui piazzale è diventato per l'inciviltà di qualcuno un ricettacolo di rifiuti. Topi che entrano anche nei negozi e stamane in Via Nappi è intervenuto per lanciare un appello al comune Giulio De Angelis, responsabile cittadino con commercio. Stiamo facendo un giro in tutte le strade della città per capire. Il problema è che in tutta la città c'è via Mancini, come il centro storico, Corseropa addirittura, c'è un'invasione totale. Io spero che il comune di Avellino sia attivo in modo perendorio, rapido e immediato. Siamo arrivati proprio alla frutta. Perché decoro e commercio vanno insieme a braccio. Insomma non è proprio invitante andare in un negozio a trovare magari dei topi. Io credo che ci siano delle condizioni perché queste cose vengono risolte in tempi estremamente brevi. Ci sono anche delle tecnologie che risolvono, quindi le applicassero. Io non entro nel merito perché è successo. So che c'è un problema e non va bene. Il commercio con la sporcizia e con questa situazione non va avanti assolutamente. Tocca alle autorità risolvere. L'appello è agli amici del comune di fare la loro parte. Noi stiamo facendo la nostra, però quando meno denunciando il problema. La denuncia arriva anche da parte dei commercianti che sono vittime di questo tipo di invasione. Assolutamente Ottavio. Ieri proprio mentre stava entrando una cliente si è vista proprio passare un topo enorme davanti. Per noi è una vergogna assoluta. A parte che c'è una puzza tremenda che viene da sotto, non si capisce perché i secchi che trasbordano in ogni dove, non parlo solo del centro storico ma di tutta la città, non si può andare avanti così. Un ciclo di rifiuti gestito da un porta a porta con le busse a terra. Cioè siamo ritornati ai tempi del dopoguerra proprio. Quindi o si mettono dei carrellati come si deve davanti ai portoni, si deve per forza risolvere, ma soprattutto ci vuole una deratizzazione urgente, subito, perché è inconcepibile ieri alle sette e mezza che ti trovi i topi enormi che passano davanti ai negozi con il rischio che ti entrano dentro. Una volta che entrano dentro come li facciamo uscire? Il centro storico è già abbandonato anche dal punto di vista... Il centro storico è già abbandonato da sì e da sempre. Ora si mette anche il problema dei topi, della sporcizza, dell'immondità e siamo arrivati proprio al limite. Siglato il protocollo d'intesa tra il direttore della Regia di Caserta, il sindaco di Sumonte e la comunità bellettina di Montevergine, il comune di Mercogliano, di ospedaletto dal Pinolo, l'ente Parco Regionale del Partenio. È stato il meraviglioso teatro di corte della Regia di Caserta a ospitare questo significativo appuntamento. Un protocollo che ha come obiettivo la valorizzazione delle bellezze naturalistiche, ambientali, paesagistiche, storiche e culturali. I sottoscrittori del protocollo sono da tempo impegnati nella valorizzazione delle risorse locali e nella promozione e diffusione del turismo sostenibile anche attraverso la realizzazione di eventi di promozione della filiera enogastronomica, di iniziative culturali, mostre, spettacoli, manifestazioni e convegni. La sottoscrezione del protocollo d'intesa avvia una fase di sperimentazione di come un importante bene culturale può collaborare su base paritaria alla promozione di un territorio. Le parti hanno promosso come obiettivo la promozione dell'offerta turistica attraverso la valorizzazione delle proprie peculiari caratteristiche paesaggistiche. Favoriscono un'ottica di destagionalizzazione, promuovono l'incoming anche generando permanenti circuiti tematici. Partecipano alle iniziative che rafforzano la conoscenza della campagna sul mercato turistico italiano ed estero ed elaborano infine offerte integrate volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate del sistema dell'entroterra campano. A via Gesualdo, nonostante la presenza dell'ufficio Tributi, ma soprattutto di un nido dell'infanzia, regna sovrano il degrado, uno spettacolo indagoroso e anche preoccupante per i bambini che frequentano la scuola, alloggi comunali che cadono a pezzi e topi in libera uscita dalle fogne e dall'erbaccia. Anche in questo rione, situato a pochi metri dalla questura, sale alta la rabbia dei cittadini. Siamo proprio nel massimo degrado. Da quando ci hanno dato queste case, dall'83, mai asfaltato una viglia. Stiamo dietro al palazzo, ci sono tante buche. Puoi guardare anche dei ratti, detto zoccoloni. Un nome d'arte. Sì, sì, sì. Basta che ti fai un giro attorno alla scuola, perché precisiamo che c'è anche una scuola dell'infanzia. Sì, sì, ma se vai dietro li vedrai anche i bambini, quando li portano in uscita. E sono costretti purtroppo a uscire in mezzo alla giungla. Poi mancano anche, dopo paghiamo un sacco di spazzature e mancano i bidoni per la spazzatura. L'asilo non c'ha dei bidoni per loro, sono costretti a buttarli da noi. Poi quanti topi che ci sono? Toponi! Sì, sì. Ci sta proprio il nido là, da quella parte. Cioè il nido di toponi? Sì, sì. Escono anche di giorno, tranquillamente. Ma entrano anche nelle case? No, no, no. Tranquillamente, vicino ai secchi della spazzatura. Insomma, peccato, anche perché c'è una scuola. Sì, sì. Infatti ci vengono parecchi bambini qua. Sì. Per questo c'è la scuola e stiamo un po' meglio, se no eravamo veramente abbandonati. Eh, niente. È proprio una situazione molto critica, perché la notte quando ci ritiriamo a casa, cioè, proprio ce ne sono tantissimi. Di topi. In giro proprio, sì. Ma oltre in una cinquantina, proprio, che siamo, e quindi... Poi avete segnalato in una scuola e, oltretutto, anche nei palazzi ci sono dei bimbi. Penso che sia opportuno per il comune intervenire, sì. Risolverà più presto la situazione. Però a un momento nessuno si è messo. No, già è stata fatta qualche segnalazione così, verbale, andando al comune, però non hanno preso nessun provvedimento. Archiviata l'ipotesi Rubilli, dal tavolo della settima commissione comunale, è spuntato un progetto di accoglienza che prevede la realizzazione di un centro Sprar all'interno dell'edificio di Lone Parco, in passato occupato dalla Polizia Municipale. Entro dieci giorni il bando, intanto i residenti del quartiere risperiscono al mittente l'idea. La zona avvertono i cittadini in totale degrado. L'accoglienza ai migranti in un quartiere abbandonato non avrebbe senso. Per me è fatto male. No, l'unica soluzione, perché c'è molta erba all'ambascia, è come fanno per abitare l'ambascia. E' peccato, se tolgono l'erba. E' peccato, sono esseri umani pure l'oro. Però se tolgono l'erba ci possono stare? Per me ci possono stare, per me abbassiamo, non mi hanno fastidio a noi. Quella avellina, i sordi ci sono. Mi fa piacere che venga. Tanto è tra il cinese e l'oro. Ormai avellina rimane solo l'albero, nient'altro. Non è rimasto molto contento dalla notizia, mi sembra di intuire. Ma se c'è il lavoro per tutti va bene, se non c'è niente, che futuro tengono? Non c'è futuro. Che devono fare questo? Vanno cercando, vedendo i barri. Non lo so, questi migranti che vengono a faccia, vengono a guai a noi. No, ma sono brave persone. Spero, ma ci sono buoni e ci sono i malamenti. Però noi siamo chi sono buoni e chi sono i malamenti. E devo dire che il buono è un malamento. E' una notizia che le fa piacere. No. Perché? E' noi che ci aiuta. I malamenti che hanno i malamenti. Io ho quattro soldi, per gli 400 euro. All'un mese. Con 400 euro, che faccio? Ma avete mai morto? Tanti anni, forse lo conosci. Il cavalliere. Sì, sì, sì. Quindi, come a madre rannate. Perché per noi italiani non ci sta aiuto, non ci sta niente. Poi a loro ci fanno di tutto e di tutto. Più di questo che... Comunque è una caserma abbandonata. No, questo è. Di noi non ci ricorda nessuno. Se vuoi prendono favore, ti chiudono tutte le porte in faccia. Se a Rione Parco la notizia dell'arrivo dei migranti è stata accolta con scetticismo, c'è qualcuno che transitando nel quartiere in bicicletta lancia un segnale di entusiasmo e gratitudine per l'ospitalità ricevuta. Bene, tutto a posto. Non c'è niente, tutto a posto. L'italiano, tutto a posto per noi, gli migranti. Io scuolo bene, mangio bene, dormo bene. Quindi, non ho problemi. Ora metto tutto nelle mani del Signore e il Signore va a noi aiutare. Se che è sì. E con il video realizzato da una telespettatore impressionante avanzata dell'esercito di Ratti a ridosso, tra l'altro, di un asilo nido a Via Giosualdo, dopo l'allarme topi lanciato ieri. Però, ovviamente, nulla è cambiato nel quartiere. Anzi, in più, rispetto al servizio precedente, abbiamo rinvenuto una carcassa di ratto sotto i castonetti destinati alla raccolta dei ripiuti. I cittadini temono che l'invasione di topi possa arrecare ora delle malattie. Lanciano l'ennesimo appello alle autorità. Stiamo in mezzo ai topi. Stiamo con i cani, i gatti, i topi. Non si capisce niente. Ma sono usciti una decina di topi l'altro giorno. E poi, forse, pure di più. Alla sera non si può uscire a buttare un po' che spazzatura. Soprattutto di sera? Sì, sì. Pure di giorni, comunque. Non è che è solo di sera. Ma queste macchinette non funzionano? Queste esche che hanno sistemato per i topi? Che sono da funzionare quando non funziona niente. Avete paura pure per l'igiene sanitaria? Eh, figuriamoci. Noi siamo qua, abitiamo qua. Non è che stiamo lontani. Negli anni passati pure c'era questo tipo di invasione, di ratto. Negli anni passati no. Noi siamo proprio abbandonati e basta. Non ci stanno più rimedi di niente. Tutte abbandonate. Comunque siamo molto attenti quando andiamo a buttare l'immondizia perché appunto ci sono dei topi giganteschi. Lei li ha visti uscire da quella pogna, da quel buco? Anzi, pensavo fossero gatti, talmente che sono grandi. Anche secondo lei queste macchinette, queste esche, non funzionano molto? Non credo proprio. Magari ne riescono ad adescare un paio, ma non più di tanto. Una situazione di degrado che mette a rischio anche voi che abitate in queste palazzine. Certo, anche perché comunque ci troviamo proprio vicini. L'immondizia è proprio sotto la nostra struttura. Ma poi ci sono parecchie fogne scoperte, quindi forse anche questo. Anche il mio cagnolino, non lo posso far avvicinare. Perché se no, appena che... È più grande il topo o il cagnolino? Sì, forse è il topo. Beh, diciamo che non mi preoccupa tanto il topo in sé. In quanto mi preoccupa il fatto che quando aumentano il numero di topi, vuol dire che il livello igienico-sanitario di una città, di un paese o quello che sia, si è molto abbassato. Perché i topi vanno dove stanno rifiuti. Questo è il problema. Che i topi portino malattie, questo è un fatto noto da sempre. D'altronde hanno fatto un po' con la storia dell'umanità. Se voi pensate alle epidemie di peste che hanno afflitto l'umanità nel Medioevo, dove morivano ogni 10, 7, 8 anni, 20, 30 milioni di persone, vi rendete conto di quanto sia importante. Diciamo che l'elenco delle malattie che portano i topi è lungo. Soprattutto bisogna evitare il contatto. Questo c'è poco da fare. Perché poi l'inquinamento per dare delle malattie, tipo la salmonella, la borrelia, la leptospirosi, infezioni di antivirus, eccetera, avvengono attraverso le feci e le urine dei topi. O addirittura anche col pelo che loro portano a presso. Quindi diciamo che si deve intervenire. Su questo non c'è dubbio. Prima che interveniamo noi si deve intervenire da un punto di vista generale, proprio per evitare questa lunga serie di malattie che questi animali portano. Come intervenire, dottore? Eh, si deve derattizzare e poi la città deve essere pulita, c'è poco da fare. Ma questo non basta che lo faccia il Comune, ma ognuno di noi, piuttosto che i rifiuti organici li butta per strada, li deve mettere negli appositi contenitori. Perché se un contenitore di plastica è chiuso, il topo dentro non ci va. Quindi se uno li butta a terra, il topo corre. Canti e palloncini gialli e blu. Piazza Libertà liberata ieri dalle transene si colora di Europa grazie agli alunni della Scuola Regina Margherita. Il coro dei bambini, diretto dal maestro Ottavio Nannachita e Cristea, incanta il porto pubblico che nonostante il sole ha sostato per ore nella loro cittadina. Ancora disponibile, non lessinando applausi e foto ai piccoli protagonisti della festa. L'entusiasmo dei bambini è un segnale di entusiasmo e speranza per una città che tenta il rilancio ancora prigioniera di troppe transenne e veghe politiche. Le piccole stelle in grembiule brillano illuminando anche il buvio dell'indifferenza. Orgoglio di una città che senta a ritrovarsi luce per gli occhi di insegnanti e genitori. Una bella emozione seguire i bambini, ma anche la piazza che ritrova un certo entusiasmo. Certo, bellissimo vedere la piazza piena di vita. E poi lei sta seguendo il suo bambino. Sì. Sta cantando bene, sì. Sì, penso di sì. Ha preso dal papà. Non credo. E invece con quale animo sta seguendo questa manifestazione? Dicevo, viva l'Europa, la giornata dell'Europa, però tanti bambini che danno speranza. E non poteva essere un'occasione migliore per festeggiare così con i bambini. Ogni giorno ci dovrebbe essere una festa del genere. Sì, infatti, sì. Emozionate anche le mamme perché è uno spettacolo davvero unico stamane. Sì, è bellissimo. È una bellissima giornata, è un bellissimo spettacolo. Sto guardando mia figlia da questa parte. E come sta andando? È una bella giornata. No, molto bene. È una bella iniziativa. Il maestro è bravissimo, sono tanti anni che lo conosciamo. È bello che abbiano partecipato a questa iniziativa cittadina. Insomma, è molto bello. Tra l'altro lei è riuscita a sedersi anche sul Prato. Ci hanno autorizzato e questo è... Lascia ben sperare per il proseguo della piazza. Speriamo, speriamo bene, sì, che sia così. Bella manifestazione. Per fortuna anche una bella giornata. È andato tutto bene. Lei abita qua vicino, quindi questo potrebbe essere il risveglio anche di Piazza Libertà. Che dice? Come no, speriamo. Per il centro storico, speriamo. Ci divertiamo. I bambini si sono impegnati quest'anno a scuola e quindi veniamo con gioia a guardarli. Scusa, l'insegnante o mamma? Mamma. Ah, ecco, il bambino dov'è l'hai riuscito a identificare? Sì, ecco l'anno. Ah, vabbè, sta qua vicino. L'insegnante è di là. Speriamo che questi bambini danno un po' di luce, un po' di allegria, rinnoviamo un po' Covellino, già che siamo un po' ristretti. La speranza sono proprio loro. I bambini, il futuro sono loro. Ecco ciò che resta dei giardinetti di Via Morelli e Silvati, l'erbaccia che in alcuni punti superano anche il metro di altezza, rifiuti nei pressi delle panchine, topi e tanto degrado. Qualcuno purtroppo ora commenterà, e qual è la novità? Tutta la città è sporca, è vero, ma questa situazione indigna ancora di più, perché a pochi metri dalla giungla ci sono l'asilo nido e l'istituto comprensivo per Nalighieri. Se è vero come è vero che in tutta la città ci sono problemi igienico-sanitari che preoccupano gli avellinesi, in questo caso, trattandosi di bambini, la rabbia è doppia. In questa zona sono stati più volte abbistati dei topi, anche di discrete dimensioni. Gli alunni che arrivano dall'entrata secondaria delle elementari calpestano o rischiano di farlo gli escrementi dei ratti, poco visibili e riconoscibili, che di conseguenza arrivano in classe, in palestra ed anche in mensa. I genitori sono preoccupati, proprio come ci riferisce questa mamma, che ci segnala anche la presenza di polpetti avvelenate sulle scale. Naturalmente il problema è molto serio e molto grave, perché comunque stiamo davanti a una scuola molto affollata di bambini, di cui anche io parlo a nome di tutti i genitori. C'è molta sporcizia, molti ratti e non sappiamo che cosa uscirà fra un paio di giorni. Io parlo a nome di tutti, chiedo, almeno davanti alle scuole, poi i rioni li sappiamo, li conosciamo, però le scuole, che è una cosa importante per i nostri figli, per una civiltà, per la città di Avellino. Solo questo chiediamo, una pulizia generale dell'erbaccia. Ci sono anche delle siringhe, c'è di tutto, perché in questi giardini, io che ci vivo dalla mattina alla sera, per lavoro anche, c'è di tutto. Allora bisogna stare attenzione anche per gli animali, perché abbiamo recuperato delle polpette avvelenate. Questa che vedete non è una boscaglia in alta montagna, nemmeno un set per l'avventura di Indiana Jones, ma la selva sempre più oscura, che ci conta l'istituto comprensivo Perna e l'asilo nido via Morelle e Silvati. Questo invece non è un campo innevato, ma il prato imbiancato di polline. Insomma, se l'impegno della scuola è indirizzato soprattutto nel rispetto dell'ambiente, con mostre, concorse, illustrazioni e convegni, spesso con la presenza di amministratori. Il cattivo esempio in questo caso lo offre il Comune. Per la fitta vegetazione stamani la dirigente ha dovuto variare il percorso interessato dalle prove di evacuazione l'erba alta, infatti ha bloccato anche alcune vie di fuga. In alcuni punti la boscaglia raggiunge addirittura le finestre delle aule. Una questione che io ho posto all'attenzione dell'ente comunale già dal mese di aprile. Io ho sollecitato più volte il taglio dell'erba, per vari motivi. Innanzitutto qui abbiamo degli spazi che sono destinati a punti di evacuazione e attualmente sono impraticabili. Poi, sinceramente, sono dei giorni che possono essere fruiti dai bambini per attività ludicomotorie e nella situazione attuale è assolutamente impossibile. Perché ci sono appunto tante situazioni adesso veramente di sicurezza, insomma, che non sono tutelate. Tant'è vero, io ho invitato anche i genitori che finché il comune non provvede al taglio dell'erba di evitare, al termine delle attività didattiche, di far andare i bambini, insomma, nei prati, cioè dove l'erba è alta praticamente. Tutto riguarda l'invasione di topi che purtroppo interessa tutta la città di Avellino e qualcuno ha segnalato anche la presenza di ratti che si aggirano nell'erba attorno al vostro istituto. Allora, io personalmente non li ho visti e non ho ricevuto segnalazioni per iscritto da nessun genitore su questo. Quindi non posso assolutamente dire niente, però è chiaro che quando l'erba è alta quasi un metro ci potrebbero pure essere e non essere visti. Da un punto di vista igienico-sanitario comunque voi state facendo il possibile per cercare di evitare qualsiasi tipo di problema? La nostra scuola ogni giorno viene, tutti gli ambienti sono lavati, le aule, gli atri, i corridoi, la mensa. Ogni giorno comunque viene fatta la pulizia che è necessaria. Adesso tocca al comune però intervenire. Certo, assolutamente. Oddio, siamo quasi al termine dell'anno scolastico, per cui questi sono interventi che vanno programmati e devono essere fatti nel mese di marzo-aprile. Alla sua mamma ha pensato un bel regalo? Sì, sì, mi ha regalato un ciondolo Pandora. Ah, ma la mammina com'è? Da 1 a 10? È 10, 11. Poi è la qualità della mammina che sicuramente starà vedendo adesso. A parte che è giovanissima e quindi è come una sorella. È bella come lei? Sì. Devo dire la verità. L'umiltà. Ci fa piacere, lei ha preso l'opera dalla mamma. Sì. Diceva, giovanissima, poi... È moderna. E questo qua ovviamente lo inviamo virtualmente alla mammina che si chiama? Claudia. Ciao Claudia. E tu invece? Carmen. Grazie per la tua simpatia. Ciao, grazie. Un po' di fiori. Tipo questo rosone qua, ovviamente vero, reale, mia mamma. Com'è la mammina? È sempre la mamma, è sempre la mamma. Dolce, apprensiva. Certo, certo, sempre. Da 1 a 10 perché stiamo dando i voti alle mammine avellinesi. 10, 10, mia madre è sempre la mia vostra. Ti tratta bene. Sì, sì, sì. Qual è la qualità maggiore della mammina? Che pensa tutta la famiglia. Cioè lei che bada a tutti. Avvocato, ma lei ha pensato a sua mamma? Sì, per domani. Io la penso tutti i giorni, mia mamma. Eh, vabbè, ma lei è un signore, è un gentleman, è un figlio modello, insomma, che da tanto... Mamma, la mamma è il punto di riferimento. Sì. Fondamentale, è la prima donna della vita. È sempre la donna della vita. Sì, ma detto questo, cosa gli ha regalato a sua mamma? Domani vedremo, non anticipo la sorpresa. Eh, vabbè, ma farà la sorpresora. Assolutamente sì. Eh? Assolutamente sì. Un fascio di fiori, che ha pensato? Ho pensato, ho pensato qualche oggetto che le piace. Qual è la qualità di sua mamma? Allora, mamma, la qualità, il sorriso e l'umiltà. Ah, il sorriso come il suo, è uno splendore. Sì. Sì. Come si chiama? Anna. Anna. Ah, è un bel... Ciao mamma. La mamma non si scorda mai. Ah, come no, come no. Ma poi per noi, specialmente anziani, abbiamo un ricordo particolare, scomparso da molti anni, quindi rimane nel nostro cuore. Adesso lei si sta commuovendo pursi. Ed è una bella occasione questa di ricordare, nella giornata della mamma, questo ricordo struggente che rimarrà per sempre. Sì, e sua mamma era speciale, perché poi tutte le mamme sono speciali. Sì, a parte, tra l'altro io l'ho persa a 15 anni, quindi ancora rimane nel cuore eternamente. Domani la penserà tantissimo. Senz'altro. Un bacione, sua mamma come si chiamava? Michelina. Ci guarderà adesso dal cielo, dice, ma questi due che stanno facendo? Esatto. Bravo a te, Ottavo. Mi sono dimenticato proprio, ma vediamo, mamma mia. Almeno un piore come questo, insomma. Me lo vuoi dare? Ma c'è qualcuno che la pensa, sì? Mie figlie. Ah, che bello. E anche lei. Ciao. Quanti fiori? Eh sì, quanti fiori di me? No, poco. Perché mi ha visto... Dovrebbe arrivare una rosa grande nell'originale, non in blase. Eh beh, ma questo ci serve per buscare la pagnotta, come si dice. Comunque complimenti. Grazie. Forse per colpa del rock, rock. Forse per colpa del... Forse per colpa del rock.